A Natale sono tutti più buoni perché hanno dato un premio a noi, quindi hanno preso in pieno lo spirito compassionevole del Natale. Siamo molto contenti di aver vinto questo premio perché per noi il video rimane un elemento molto importante, nel senso che è forse uno dei pochi modi per poterci esprimere al di là del prodotto musicale. Ed è uno dei pochi modi per metterci poi a nudo e farci vedere un po' meglio per come siamo. E questa cosa si nota poi nel video, che lui è un cretino e noi tre siamo persone intelligenti. Deve rispecchiare al meglio comunque un lavoro, un album e deve essere comunque un biglietto da visita importante che rappresenti al meglio la band e tutto quello che è. L'aggettivo per me è vero. Duro. No, ragazzi, fermi. Rispetto per chi dice cosa devo fare. I dischi se ne vendono sempre meno, il digitale aumenta sempre di più, però noi confiniamo sempre nei live, porteremo tutto in live. Band at work rappresenta solo in parte della produzione che abbiamo fatto in questo ultimo anno e mezzo. Il sound è decisamente cambiato, più che altro c'è stata una ricerca anche da parte nostra di suoni diversi, abbiamo guardato un po' dentro noi stessi gli equilibri della band e abbiamo cercato di raccontare cose diverse, di manifestare anche attraverso la musica il suono delle cose diverse che vogliamo dire. E il titolo dell'album? No, 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 non lo sappiamo ancora, detta seriamente. Io sono nato solo per sbarcare Tornerete a Sanremo? Speriamo, visto che comunque ormai le vetrine in tv diminuiscono sempre di più, la possibilità di far ascoltare a tante orecchie la musica diminuisce appunto sempre di più, vedendo che è sparito Festival Bar, la diffidenza delle radio verso la musica giovane e anche la sparizione ormai quasi di TRL dal palinsesto di MTV. Sono tutte occasioni in meno appunto per proporre la propria musica e Sanremo può essere una vetrina importante comunque per farlo. Come sono cambiati i film da quando suonavano nelle cantine di Legnano a oggi? Si sono montati la testa... Ma forse si lavano un pochino di più rispetto a prima, visto che la cantina permetteva anche di nascondere degli odori. Sicuramente siamo cresciuti, però fondamentalmente siamo regrediti a livello celebrale. Le ragazze non si accontentano di quello a cui ci accontentiamo noi, della superficialità, tante volte vogliono appunto qualcosa di più e noi non abbiamo ancora capito che cosa vogliono. Pensavo fosse il frutto di una tua scarsa prestazione, vogliono un qualche minuto in più. Ciao, un saluto dai Finlay a Televisionet. Ciao!